Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un uomo di origini straniere incensurato, residente ad Arezzo, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di sei studentesse. Un uomo di origini straniere è stato arrestato nell'aretino dai carabinieri e adesso si trova agli arresti domiciliari. È ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di sei giovani studentesse minorenni. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero svolti dal dicembre 2023 a gennaio 2024 all'interno di un autobus di linea extraurbana in provincia di Arezzo. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni di una ragazza che era stata molestata e che, confrontandosi con altre coetanee vittime degli stessi abusi mai denunciati, avrebbe realizzato che l'autore poteva essere lo stesso. I carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze delle ragazze, hanno pedinato l'uomo e alla fine lo hanno fermato al capolinea della linea extraurbana degli autobus. Incensurato e residente in provincia di Arezzo, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Adesso si trova nella sua residenza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Ancora cronaca, in Valdarno a Montevarchi, la Guardia di Finanza ha ritrovato e sequestrato 76 kg di tabacchi rubati. Sugli scaffali della tabaccheria, 76 kg di tabacchi lavorati nazionali, rubati da tre attività delle province di Lucca e Pisa, mescolati a quelli regolarmente acquistati e pronti per essere rivenduti. A scovarli, la Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che ha sequestrato le bionde rubate, segnalato in procura il titolare della tabaccheria nel comune di Montevarchi è la persona che aveva ceduto i tabacchi rubati per ricettazione. Le fiamme gialle, una volta entrate nel locale valdarnese, hanno subito notato tutti quei pacchetti di tabacchi sospetti. Le attività di accertamento successive, eseguite con l'ausilio del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la scansione del codice univoco presente sui generi di monopolio, hanno consentito di riscontrare che quei tabacchi risultavano rubati mesi prima da tre tabaccherie delle province di Pisa e Lucca. Le indagini poi si sono concentrate sull'individuazione di chi aveva ceduto i tabacchi in questione alla rivendita autorizzata. È stato così identificato un italiano con diversi precedenti penali. Sia lui che il titolare della tabaccheria sono stati denunciati. Nella notte tra domeniche e lunedì, sempre in Valdarno, un raid vandalico nella sede Scout in Piazza Masaccio a San Giovanni. I vandali, una volta entrati nei locali, hanno usato gli estintori imbrattato di polvere varie stanze. Non contenti poi hanno anche disegnato delle svastiche su un muro. Sulla vicenda è stata già presentata denuncia ai carabinieri, ma intanto in tempi record i locali sono stati ripuliti e tornati agibili grazie al supporto di capi comunità e parte del clan che in due ore hanno fatto pulizia e rimesso a nuovo gli spazi. E ha toccato anche la Toscana la protesta degli agricoltori. Da questa mattina ha preso avvio la manifestazione di riscatto agricolo che con i loro trattori hanno bloccato il casello Valdichiana della Uno. Vediamo il servizio. In centinaia si sono presentati per difendere il loro lavoro e i prodotti italiani. Ci avete tolto la dignità, l'agricoltura muore e le associazioni dormono. Così cartelli nei trattori degli agricoltori al casello A1 di Bettolle per la protesta organizzata dal movimento riscatto agricolo, ma presenti spontaneamente anche tanti agricoltori senza una sigla. I trattori hanno sfilato a passo Duomo sventolando solo la bandiera italiana. Solo una volta e per pochi minuti è stata bloccata l'uscita della A1. Poi il traffico è ripreso regolarmente, seppur con importanti disagi nella viabilità ordinaria. Le ragioni sono che noi siamo arrivati con l'acqua alla gola. Non ce la facciamo più a sostenere i costi delle nostre aziende e quindi siamo arrivati a una cosa del genere. E pensi che il contadino è molto individualista. Per essere arrivati a questo punto vuol dire che noi non ce la facciamo più. I prezzi delle materie prime sono aumentate per produrre e invece i nostri prodotti sono calati. La protesta durerà cinque giorni. Gli agricoltori hanno chiesto un incontro al governo e protestano soprattutto per le direttive europee. Al governo chiediamo che riconosca che noi agricoltori lavoriamo tutti i giorni per fornire il cibo agli italiani e per mantenere questo territorio e che ci riconosca il prodotto. Noi non si vuole sussidi, ma si vuole che ci venga pagato il giusto prezzo al nostro prodotto. Riprendiamoci l'Italia! Cinque giorni, fino a sabato. Presidio fisso giorno e notte, poi faremo cortei durante il giorno creando un po' di disagio e bloccando un po' il casello dell'uscita dell'autostrada. In questo momento il problema più grande è la comunità europea perché il governo, sia quello attuale che quelli precedenti, firmano le direttive che manda la comunità europea quindi siamo obbligati a rispettarle. Bisogna cambiare passo perché comunque così per l'agricoltura italiana ci troveremo fra cinque anni, massimo dieci anni, cioè è finita, abbiamo chiuso. Noi bisogna proteggere la nostra identità di agricoltori italiani e anche il prodotto italiano perché comunque il nostro prodotto a giro per il mondo è un'eccellenza, dal parmigiano reggiano alla mozzarella di bufra, olio, vino, quindi bisogna proteggerlo. Però devono proteggere noi agricoltori per questo, anche perché noi siamo quelli che tuteliamo l'ambiente, che siamo sul territorio giorno dopo giorno. Credo ci applaudivano non perché siamo bravi a radunare 400 trattori, ma perché iniziano a capire che il problema non è solo nostro, è anche loro, perché loro sono il consumatore finale e quando iniziamo a stare male noi la situazione negativa si riflette anche su di loro. Aumentano posti e se chiudiamo mancherà il cibo sulle tavole. Non mancherà perché verrà dall'estero, ma la qualità che abbiamo oggi non l'avremo di sicuro. Torniamo a parlare dei servizi dell'infanzia e della tanto discussa quota nonni. Il prossimo venerdì il regolamento sarà discusso in consiglio comunale, ma intanto giovedì la vice sindaco Lucia Tanti incontrerà alcuni genitori dei bambini che frequentano gli asili comunali. Quella famiglia che ha uno dei quattro nonni o due dei quattro o tutti e quattro in condizioni di disabilità o di criticità oggettive, certamente prende un punto in più rispetto a chi per fortuna sua non ha questo carico di cura in più. Si va avanti ad Arezzo con il cosiddetto criterio dei nonni, non solo questo ovviamente nel nuovo regolamento per l'accesso ai servizi all'infanzia. La pratica che non è stata discussa in consiglio comunale lo sarà il prossimo venerdì, ma prima di questa data ci sarà anche un incontro tra il vice sindaco di Arezzo e una famiglia. Tutto rimandato dunque per avere appunto la ratifica di questo nuovo regolamento che ha fatto molto discutere. Io incontro una persona che ha scritto di non condividere questa cosa, del resto io faccio 1500 appuntamenti l'anno e faccio volentieri anche questo. Non c'è un comitato di famiglie, perché se io dovessi condividere con voi le lettere che ho ricevuto in questi giorni di genitori che hanno figli ma che hanno anche i loro genitori malati e che dicono grazie perché io con la mia mamma da 20 anni ha letto con l'Alzheimer, non so come fare a guardare la mia mamma e a prendermi cura del mio figliolo, io credo che mi basta questo per essere tranquilla. In commissione passato con il voto favorevole dalla maggioranza e le astensioni delle minoranze, quindi voglio dire c'era spazio anche per votare contro, avessero voluto. In consiglio comunale noi siamo disponibili ad assumere tutti quegli emendamenti che dovessero migliorare, questo è un regolamento che arriva dopo quasi 20 anni, è da questo punto di vista abbastanza rivoluzionario, in realtà secondo me questa è la parte più marginale perché per esempio trovo molto più rivoluzionario che il bambino che ha il genitore disabile entri direttamente perché non fa nessun tipo di fila, non c'era, trovo molto più rivoluzionario il fatto che si alza l'ISE fino a 35 mila euro invece che fermarsi a 10 mila, trovo molto più rivoluzionario il fatto che si ragioni su tutte le gambe del lavoro, quindi un aiuto a chi per esempio fa lavori di turnazioni perché sono medici, infermieri, sono forze dell'ordine, insomma questo è un regolamento che cambia in maniera drastica quello che c'è fino a ora, c'è una cosiddetta quota nonni che è diventata molto attenzionata ma che francamente rispetto al tutto è abbastanza marginale. Ancora a scuola, un'altra novità dopo il liceo Made in Italy, si tratta dei percorsi della nuova filiera tecnologico-professionale 4 più 2. In quattro anni si potrà ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e poi proseguire per altri due anni negli ITS Academy conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 10 febbraio, sentiamo il ministro Balditara. I nuovi percorsi quadriennali dell'istruzione tecnico-professionale rappresentano una importante opportunità per i nostri giovani, innanzitutto perché immettono nel mondo del lavoro un anno prima, ovvero nel percorso universitario ITS, poi perché avranno a disposizione molti più docenti dal momento che a invarianza di organico si riducono gli anni da 5 a 4. Ci sarà un potenziamento di quelle materie che oggi rappresentano un po' l'anello debole della filiera tecnico-professionale, cioè italiano, matematica, inglese. Ci sarà uno strettissimo collegamento col mondo dell'impresa e ci sarà tanta internazionalizzazione, cioè esperienze all'estero. Insomma, un modello vincente, un modello che consentirà ai giovani di realizzare le loro aspettative, i loro talenti, trovando più rapidamente un posto di lavoro. Questa mattina invece si è riunita la Commissione Territoriale Comunale per il contrasto al disagio abitativo, alla presenza dell'assessore Maneschi, dei rappresentanti degli assessorati alle politiche sociali e al patrimonio di Arezzo Casa, del comitato esecutivo dell'Ode, dei sindacati e degli inquilini, delle associazioni dei proprietari e della dirigente ufficiale giudiziario del Tribunale di Arezzo che ha fornito i dati relativi all'anno 2023. Dunque, nell'intera provincia di Arezzo sono state 331 le richieste di esecuzione di sfratti, di queste 122 quelle eseguite, delle quali 47 nel comune di Arezzo. Nel 2023, poi, la piattaforma online a cui il cittadino può accedere per segnalare eventuali emergenze abitative ha ricevuto solamente due richieste. Inoltre, la proiezione ai primi tre mesi del 2024 non prevede alcun primo accesso nella comune di Arezzo. Emerge un quadro, ha dichiarato l'assessore Manneschi, più confortante rispetto agli anni precedenti. E adesso torniamo invece a parlare del nuovo Ponte Buriano, ad intervenire il capogruppo PD in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della Commissione Infrastrutture Lucia De Robertis. Dopo la notizia data dal presidente Eugenio Gianni, che nell'ambito della ripartizione delle risorse europee provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, si è deciso di proporre di destinare 21 milioni di euro alla realizzazione di questa infrastruttura in vista dell'intesa da firmare con il governo. È un'opera di importanza strategica per il territorio, hanno dichiarato Ceccarelli e De Robertis, che potrà divenire realtà grazie all'impegno bipartisan di chi ha davvero a cuore l'interesse della comunità al di là degli schieramenti politici. E adesso l'economia. Ieri è eletta la nuova giunta della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio Arezzo Siena. Dopo l'elezione alla presidenza dell'ente di Massimo Guasconi lo scorso 10 gennaio, il Consiglio Camerale ha nominato la giunta organo di indirizzo politico che affiancherà Guasconi per i prossimi 5 anni. Completeremo questi rinnovi, il rinnovo per il mandato appunto 2024-2029 e avremo gli organi completamente formati. I nuovi membri di giunta eletti a scrutinio segreto sono Fabrizio Bernini per il settore industria, Francesco Butali per il commercio, Lidia Castellucci per il settore dell'agricoltura, Graziano Costantini per il turismo, Fabrizio Landi per l'industria, Roberto Menchietti per i servizi alle imprese ed infine Ferrer Vannetti per quanto riguarda l'artigianato. La giunta camerale sarà chiamata nella prossima riunione del 9 febbraio ad eleggere il vicepresidente della Camera di Commercio e a predisporre i documenti previsionali e programmatici che indirizzeranno l'attività dell'ente nel quinquennio 2024-2029. Siamo in momenti particolari con delle condizioni ovviamente mondiali che non sono sicuramente favorevoli, la logistica che ha grandi difficoltà per la movimentazione delle merci, immaginiamo che cosa significa rinunciare al passaggio per il canale di Suez con le problematiche che tutti conosciamo. Immaginiamo ancora il costo del danaro che rimane ancora alto e ovviamente in previsione speriamo davvero che ci sia una riduzione ma ad oggi ancora questo non accade. Quindi le imprese in particolare soffrono, soffrono per le materie prime, soffrono appunto per i costi eccezionali che devono affrontare ma soffrono ovviamente anche le imprese che hanno una capacità ridotta di acquisto e quindi il loro tenore di vita in qualche modo ne risente e ne risente ovviamente tutto il nostro mercato anche interno. Per cui è un momento che ancora ha dato risultati positivi a cominciare dalle esportazioni soprattutto in alcuni settori ma ovviamente purtroppo credo che dovremmo aspettarci un 2024 un po' più tiepido e speriamo davvero che sia solo un po' più tiepido. Proseguono gli appuntamenti con l'educazione civica organizzati dall'associazione tra Tevere ed Arno. In cattedra questa mattina è salito il giudice Gianni Fruganti. Parla del suo argomento, della sua vita, la legge, meglio la legalità e la definisce garanzia o trappola? Cioè è una garanzia comunque per coloro che dovranno essere giudicati o è una trappola se il giudice non sta molto attento e magari tralascia qualche particolare? Da questa domanda è partito l'incontro tra il giudice Gianni Fruganti e i ragazzi dell'ITIS Galileo Galilei per la scuola di educazione civica organizzata dall'associazione tra Tevere e Arno. È fondamentale parlare di legalità, significa rispettare la legge che poi la legge significa rispettare la convivenza civile. La mia libertà è immensa ma finisce dove comincia la tua. Legalità, garanzia o trappola? Il titolo dell'incontro con Fruganti, giudice di lungo corso, è stato presidente facente funzioni del Tribunale di Arezzo ed ex presidente della sezione penale. Il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi è che ormai negli anni 2000 non ha più senso parlare di legalità in senso classico come rispetto alla legge a prescindere e mi piace pensare di poter far loro un percorso che partendo da questa impostazione di stampo illuministico arrivi poi a una concezione più moderna e voluta che lega indissolubilmente la legalità ai valori costituzionali. Proseguono così gli appuntamenti didattici del percorso di educazione civica, collezioni incentrate su tanti argomenti diversi ed altrettanti relatori d'eccezione. Abbiamo cercato infatti di rispettare anche quelle scuole che avevano fatto una loro programmazione interna con degli esperti che potessero arricchire se avevano toccato l'argomento, affrontarlo se l'argomento era nuovo. Quindi noi siamo soddisfattissimi perché poi i relatori sono tutti di esperienza concreta per cui non si rimane soltanto nel teorico ma si scende molto anche nel pragmatico. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze l'istituzione biblioteca della città di Arezzo ha portato a termine il restauro di alcuni volumi, manoscritti e stampa che durante i secoli si erano danneggiati. La biblioteca è una delle più antiche istituzioni aretine esistente già dal XVII secolo e conserva un ingente patrimonio antico e moderno. Il progetto ha riguardato il risanamento di quattro importanti testi antichi e un'ingente raccolta di stampe riunite in un unico volume di grandi dimensioni. La necessità di restauro riguardava sia la struttura della legatura che il supporto scrittorio. E lo scorso sabato invece in occasione della giornata della memoria per le vie del centro storico una marcia per la pace che ha visto l'adesione di centinaia di persone. È una preghiera, una domanda, una testimonianza che per la pace sappiamo che ne ha bisogno il nostro mondo e quindi la vogliamo testimoniare. Abbiamo speranza, crediamo nella pace. Questo è il messaggio scritto su uno striscione sorretto da giovani scout che ha aperto il corteo oltre 700 le persone in marcia unite per la pace. Gli operai della pace si riuniscono di tutte le fedi di tutte le opinioni per incontrarsi e accompagnare questo pensiero di pace da Piazza San Jacopo in silenzio con le luci bianche verso il Duomo di Arezzo. Nel giorno della memoria la rete aretina Pace e Disarmo ha organizzato la Marcia per la Pace che ha visto la partecipazione di cittadini di ogni età, di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, di esponenti della società civile e delle associazioni del territorio. Noi pensiamo che credere nella pace dà speranza perché significa che pensiamo che anche il nostro piccolo impegno, il nostro piccolo contributo può essere importante. Una camminata per le vie del centro storico sino alla cattedrale per lanciare un comune messaggio contro ogni forma di guerra e violenza. La pace non si mette in discussione perché quello che lascia la guerra è una devastazione, è una sofferenza che non possiamo permetterci, soprattutto dei più deboli, noi siamo alla parte dei più deboli. Tornano le serate di una consiglio musicale, la rassegna di concerti in acustico nella cornice della sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Dal jazz suonato dagli studenti del liceo musicale Petrarca a rock con Canta Chimere e Francesco De Prizio che si esibiranno sabato 1 febbraio alle 21. Per il Canta Chimere e nome d'arte di Andrà Giustini sarà la prima esibizione live ufficiale dopo la pubblicazione del brano e del videoclip Questa è la sera, canzone sulla serata delle cene propiziatorie alla vigilia della giostra del Saracino. E il prossimo fine a settimana nel cuore della città torna invece la fiera antiquaria. L'edizione di febbraio sarà così dedicata agli innamorati. Sabato 3 e domenica 4 febbraio prenderà il Via Allovart, un'iniziativa artistica voluta dalla Fondazione Arezzo in Tour ideata e curata dall'Associazione Zechiele e realizzata in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo che inviterà i visitatori della manifestazione a partecipare a una singolare performance collettiva che vuole celebrare proprio l'amore. All'auditorium Guido d'Arezzo Carum Hall invece è stata l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino ad inaugurare il cartellone sinfonico 2024. L'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino tra le più apprezzate dai pubblici di tutto il mondo protagonista del primo appuntamento del 2024 della stagione concertistica retina. Il cartellone di appuntamenti promosso da Fondazione Guido d'Arezzo è comune con il sostegno del Ministero della Cultura. Il nostro obiettivo era quello di proporre Arezzo come città della musica è un progetto ambizioso ma nel corso di questi due anni abbiamo portato artisti incredibili in città si è parlato di Arezzo in tutto il mondo e continueremo a farlo. All'auditorium Guido d'Arezzo Carum Hall a dirigere l'orchestra un maestro d'eccezione John Marine, uno dei pochissimi direttori d'orchestra ad operare ai massimi livelli sia in ambito operistico che sinfonico. Siamo riusciti in otto anni di lavoro continuo, continuativo a migliorare sempre di più l'offerta musicale che proponiamo agli aretini e credo che in qualche misura anche il gusto degli aretini comunque amanti di musica e di musica classica in particolare si sia evoluto. Ricco il programma da Mozart a Tchaikovsky. Questa sinfonia è una storia particolare Mozart la scrisse a Vienna, manoscritto è andato perso c'è un po' nella biblioteca Jagiellonica a Varsavia però c'è un'ultima pagina su quale lui scrive dice questa è forse l'unica sinfonia che ho scritto essendo felice modo di pensare a tutta questa cosa invece ci sta molto con la quarta di Tchaikovsky perché è la più europea dalle sinfonie di tanti compositori Mozart l'austriaco scrisse a Praga, Tchaikovsky il russo aristocratico scrisse a Ginevra e a Venezia ed è questa la funzione della musica in fondo di avvicinare la gente quella scintilla divina in ognuno di noi che ci fa essere in fondo tutt'uno Doppio appuntamento con Claudio Bisio a Cortona la stagione del teatro Signorelli dedica due serate lunedì 5 e martedì 6 febbraio allo spettacolo La mia vita raccontata male una riflessione su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti giocando spesso a idealizzare il passato cancellando brutti ricordi e magnificando quelli belli reinventando così il reale ordine magico del racconto e adesso la pagina dello sport Arezzo Virtus Sentella di domenica con inizio alle 18.30 si giocherà con la curva sud chiusa su decisione del giudice sportivo il provvedimento punitivo è stato preso a causa del petardo che lanciato dal settore ospiti nella trasferta di Ancona del 26 ottobre scorso causò il ferimento di una fotografo a oggi gli abbonati di curva sud come normativa vigente non potranno dunque acquistare i tagliandi degli altri settori la prevendita nel frattempo è già cominciata e adesso l'atletica l'Alga Atletica Arezzo festeggia due nuovi titoli regionali i campionati toscani ragazzi hanno visto i migliori atleti nati nel biennio 2011-2012 sfidarsi sulle piste di Carrara tra le diverse specialità dell'atletica leggera con la società retina che è riuscita ad emergere con un doppio oro Mattia Falciani ha trionfato nel salto in alto con 1.46 metri e Daniel Fiani è stato il più veloce nei 50 piani con 6.83 secondi il fine settimana è stato poi ulteriormente arricchito dalla trasferta di un gruppo di cadette del 2009-2010 al meeting giovanile in Dordi Modena e dall'ottima prova di Gemma Fabriciani nel salto in lungo con il primo posto e record personale dei 5.09 metri questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci ciao 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 ciao